Direttore Andrea Luperini, dal 22 luglio che è partita questa squadra, ad oggi tutti gli obiettivi sono la Coppa Italia regionale vinta contro la Vucinese, il campionato ormai mancano tre punti e il viaggio verso Firenze per la finale nazionale è sempre più vicino. Sì, il campionato per la matematica ne mancherebbero due, comunque giustamente mancherebbe una vittoria, speriamo di raggiungere la domenica e di far festa con i nostri tifosi. Per la Coppa, oggi è una grande prestazione, abbiamo messo in cantiere la semifinale che stiamo aspettando il risultato tra Pro Settimo e Arzignano e vedere dove andremo a giocare. Niente, che dire, un gruppo favoloso ragazzi, in gamba sono dal 22 di luglio che sono insieme e si stanno facendo un C, puntini puntini, dalla mattina alla sera per raggiungere gli obiettivi. Penso che fino ad oggi dimostri il fatto dell'impegno sul lavoro costante che oltretutto porta risultati. Questi sono i risultati del lavoro, il lavoro che il mister gli sta dando e che loro stanno rispettando. Ecco, in un mese a giugno hai costruito una fuoriserie, l'hai modellata nel mercato di dicembre con acquisti ben mirati, soprattutto giovani e con Balestri e Peroni che hanno potuto dare una mano importante a questo gruppo per il doppio impegno. Sì, niente toglie a chi è partito qua già all'inizio di stagione e che abbiamo dovuto mandare a giocare perché purtroppo non trovavano anche pochi spazi e l'abbiamo fatto per loro. Poi l'avvento di Balestri e Peroni ti danno una garanzia perché sono giocatori che hanno fatto le categorie anche superiori e se arrivano a non giocare o magari a giocare meno degli altri quando poi vengono chiamati in causa sono soprattutto uomini e quindi si mettono a disposizione. Questo è sintomo dello spogliatore che l'ha accolti bene e si sono presentati bene e è la forza e il valore aggiunto di questa squadra qui. Ecco, la Coppitala gli ha detto ai lavori che danno come la finale, la prisione della finale Ponzacco-Campo Basso, Campo Basso che è un'autentica corrazzata. Ma io intanto mi preoccuperei di giocare la semifinale. Il Campo Basso penso sia una squadra che alla fine vuoi per il nome, vuoi per la tradizione, vuoi per tante cose, sicuramente avrà qualche gradino importante. So che oggi ora stava vincendo 1-0, non so se è finita 1-0 quindi sarà una semifinale anche loro. Noi siamo impegnati ancora in campionato, anche loro mi sembra che siano quasi vicini alla matematica quindi alla fine tutti e due giochiamoci la semifinale. Poi se sarà una finale e lo giocheremo a Firenze sicuramente sarà un grande spettacolo. Non tanto preoccupiamoci di passare questa semifinale che sicuramente sarà una partita tosta, importante perché tutte le squadre che arrivano qui ora sono prime in classifica nei loro gironi. Quindi immaginiamoci che tutte le partite sono da giocare.